è veramente incredibile questa commistione di potenza tecnologia sostenibilità questo motore elettrico così silenzioso facile da guidare in un posto poi così meraviglioso siamo al lago di Misurina con dietro le cime di Lavaredo impensabile una performance così qualche anno fa con delle macchine completamente diverse per cui è veramente un grande piacere questa idea della sostenibilità legata alla potenza e all'estetica perché poi stiamo parlando di una macchina meravigliosa ripeto in un contesto altrettanto fantastico Grazie a tutti